Ministro, riportiamo da Viterbo, cosa si porta via da questa serata che ha mandato l'Arezzo in semifinale per quello che è successo in campo e anche un commento su quello che è successo fuori con l'aggressione da Presidente Lacav Ma in campo abbiamo fatto due buonissime partite, ci siamo meritati la qualificazione contro la squadra che alla fine aveva vinto la Coppa Italia, quindi c'è stata grande soddisfazione ci ha fatto accedere alla semifinale, ora ce la giochiamo con grande fiducia, con grande consapevolezza di quello che sappiamo fare e anche di che tipo di avversario troviamo Per quello che è successo fuori, se ne sono già dette di tutti i colori, io comunque avevo sentito il Presidente ero lì e quindi l'ho sentito pure nel post partita, insomma saranno cose che verranno risolte nelle sedi più opportune Quando ha saputo dell'esito del sorteggio, ammesso che sia stato un sorteggio veramente, ed è uscito il Pisa Ha sospirato di sollievo, si è arrabbiato, ha imprecato o nulla di tutto ciò? No, erano quattro squadre forti, alla fine avremmo avuto con tutto lo svantaggio di dover vincerne una per forza e di andare fuori casa la seconda per forza, quindi non cambiava granché Sappiamo che comunque quando si arriva agli sgoccioli di questo mini torneo qua rimangono le migliori quindi c'è toccata una delle migliori, è una squadra che conosciamo già perché abbiamo incontrato due volte in campionato la rincontriamo di sicuro due volte adesso, vedremo chi ha più corda Mi chiedo se Basit e Buglio recuperano e che tipo di formazione ha in testa per domani, se dobbiamo aspettarci i cambiamenti oppure no? No, io credo che la squadra oggi abbia un morale talmente alto, una certezza talmente grossa sull'emotività con cui vado ad affrontare le partite che non devo fare l'errore io di togliergliela Sappiamo che con il nostro modulo abituale abbiamo grandi chance però comunque è un modulo che consentendoci di attaccare può darsi che consenta anche all'avversario di fare altrettanto ci sta che la partita conceda qualcosa a noi, conceda qualcosa a loro però credo che sia giusto che la squadra vada ad affrontarsi la gara al meglio della propria condizione anche perché abbiamo l'obbligo comunque di vincerne una sarebbe stupido star qui a fare tipologie di calcoli tanto l'avversario è forte che io mi metta in un modo o nell'altro i buchi per fare quello che vuol fare ci sta che li trovi ugualmente noi dobbiamo essere più bravi possibile a tentare di portare la partita sul canovaccio nostro anche se il Pisa ha un canovaccio molto simile al nostro nella tipologia di gioco quindi vediamo chi ha più benzina Basit e Buglio? Sono tutti e due recuperabili anche se Basit non dal primo minuto quindi già che lo posso avere in panchina e avere un cambio di livello comunque mi fa stare decentemente tranquillo visto che abbiamo perso le medie per squalifica Davide è a posto quindi lo sapevo già che sarebbe stato a posto per questa partita qua quindi vediamo se farlo partire dall'inizio poi Se deve essere l'anno nostro lo sarà e se non deve esserlo non lo sarà ma che sensazioni ha? Difficile oggi fare un calcolo su queste partite qua perché sono gare talmente equilibrate e verranno risolte da episodi o comunque dai calciatori più bravi in campo perché è giusto che sia così quindi dobbiamo tentare di portare l'episodio dalla parte nostra anche se sappiamo che non è facile vivremo momenti della partita di grande difficoltà ho detto questa cosa qua prima in conferenza per il semplice motivo che è inutile stargli a scervellarsi o a tentare di fare, dobbiamo stare tranquilli abbiamo fatto una cavalcata impressionante siamo arrivati in semifinale, vogliamo tentare di arrivare fino in fondo sapendo che l'ostacolo da affrontare è gigantesco però sappiamo anche che siamo in una condizione per poter dire la nostra ci va bravura e un pizzico di fortuna su queste partite qua